C'era Imperia in Lizza per la finale del campionato primavera? Sì, era una possibilità che sembrava quasi molto probabile come altre opportunità che erano state prese in considerazione per la Liguria purtroppo per problemi legati alle strutture del campo ciccione probabilmente problemi tecnici alla fine è stata fatta la scelta di spostare questo evento su altre strutture a noi dispiace molto perché poteva essere un'opportunità importante un modo per fare arrivare i calci importanti di un certo livello in questa città, in questa provincia però prendiamo atto di questa situazione sapevamo quel giorno che abbiamo fatto il sopralluogo che c'erano da risolvere alcuni problemi importanti in tempi brevi e probabilmente questo è stato il motivo che alla fine ha fatto decidere la Lega e la Federazione per altre strutture Un'Imperia che sta facendo un buon campionato in eccellenza Noi siamo assolutamente molto soddisfatti perché abbiamo puntato tutto sul settore giovanile, sui giovani e ne stiamo sfornando e dando delle ottime dimostrazioni siamo messi bene in classifica speravamo e potevamo fare qualcosa di più purtroppo abbiamo perso il nostro giocatore più importante che era l'argentino Battipiedi che è rientrato in Argentina per giocare nei professionisti e questo lo capiamo perché è un ragazzo distante da cara poi aveva un accordo con noi in tal senso che se fosse arrivata una chiamata dai professionisti lui avrebbe avuto la libertà di andare e questo in questi ultimi periodi non ci ha permesso di mantenere il trend che avevamo ottenuto nella prima parte del campionato però siamo lì a ridosso e contiamo di finire il campionato nel modo come abbiamo iniziato cioè facendo bene risultati importanti poi vedremo, otteneremo le somme a fine stagione Un campionato d'eccellenza che il prossimo anno si arriccherà di una nuova squadra la Sanremese quindi ritornerà il vecchio derby Siamo molto contenti, intanto il presidente Bersano è un amico e quindi siamo contenti infatti gli ho mandato anche un messaggio in cui gli ho fatto gli auguri di buco al lupo e di buon lavoro per cui c'è soddisfazione c'è soddisfazione perché cresce il calcio a livello provinciale ritorna una grande presenza ritorna un derby storico di questa provincia ci sono altre realtà che crescono assolutamente è un piacere sapere che il prossimo anno poi noi cercheremo di affrontarlo come sempre nel mondo migliore poi in campo vinca il migliore guardate l'amicizia fuori ovviamente guardate l'amicizia a usare un piccola